Bella a tutti ragazzi, qua siamo in un nuovo video oggi vi mostrerò le mie bellissime macchine che forse regalerò anche a voi in un drop iscrivetevi, follow tutto allora ragazzi iniziamo, abbiamo questa bella cringer che ora vi mostro, ok vi ho questa benefatto cringer che dropperò agli abbonati quando avrò mille iscritti poi questa arena war, iscritti questa qua forse una volta agli iscritti questa qua agli iscritti vetto questa qua la regalerò agli abbonati perché è una bomba la vigilante sono gentile ladro però a tutti ok allora, dopo abbiamo la Italy quasi moddata poi abbiamo Torado, Scrum Jet, Deluxe, la quella dell'altra e una che ho preso da un drop che regalerò a voi ok ragazzi, sopra abbiamo un'altra macchina bella 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 molto carina poi abbiamo Love for Zeno e vabbè le altre sono duplicate ok, ora vi mostro le altre sono tutte duplicate quindi non fateci caso l'altra è una di strada ok ragazzi alla prossima ciao da Marti di 2011 di